Secondo momento, Petrozzi, del nostro talent, quindi dovrei avere accanto a me Bruno Minniti, che ci dirà chi è la terza concorrente in gara. Vado? Vai! Ilaria Mariani. Ilaria! Sappiamo anche da dove arriva, Bruno? Sì, arriva da... arriva da... Castel Gandolfo. Castel Gandolfo, Roma. E ci fa ascoltare... E ci fa ascoltare in cerca di te. È giusta? Sì. Perfetto. Codice 0, 3. Vai Ilaria! Grazie. 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 solo a me ne voglio un bacio cercando te, sognando te che più non ho grazie, grazie